Dal 16 al 22 settembre ricorre la settimana europea della mobilità sostenibile promossa dalla Commissione europea. Varie sono le iniziative che si stanno svolgendo anche sul territorio provinciale per celebrare tale ricorrenza. Nel comune di Belluno, per esempio, l'assessore alle politiche ambientali Stefania Gantz fa sapere come, grazie alla collaborazione con Dolomiti Bus, sabato 21 i mezzi pubblici in città saranno gratuiti per tutta la giornata. Con questa proposta continua l'assessore e, come già accaduto in altre occasioni, intendiamo avvicinare ulteriormente i cittadini al servizio di trasporto pubblico locale. Domenica 22 è la volta invece della grande pedalata della Val Belluna organizzata dalla FIAB Belluno e FIAB Feltre in Bici, pedalata lungo il percorso ciclabile di Fondovalle-Belluno-Feltre, in destra e sinistra Piave, per promuovere l'intermodalità treno-bicicletta, il cicloturismo, il bike to work e il bike to school in Val Belluna. L'iniziativa ammira far conoscere altresì l'anello ciclabile della Val Belluna, che fra i vari aspetti, sottolineano dalla FIAB, può avere una forte attrattività per il turismo in bicicletta, con importanti ricadute sulle attività economiche dislocate sul percorso. Lo slogan della settimana europea per quest'anno è Walk with us, continua ancora l'assessore Gantz, e quindi, nell'arco di questa settimana, rivolgiamo l'invito a tutta la cittadinanza a provare a lasciare a casa l'auto, a camminare per la città, a usare la bicicletta o gli autobus. E sempre un'attenzione al clima e all'ambiente viene dedicata in primis anche dagli stessi cittadini, come nel caso del neonato gruppo Genitori per l'Ambiente, che si pone l'obiettivo di dare il proprio contributo alle attività dei ragazzi di Fridays for Future Belluno per la salvaguardia del pianeta. Nella settimana dal 20 al 27 settembre, dedicata ad una sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente, il neonato gruppo, scegliendo il cibo come elemento capace sia di veicolare buone pratiche, ma anche corresponsabile per quanto attiene all'inquinamento ambientale e al cambiamento climatico, proporrà agli esercenti bellunesi una sorta di codice ecologico-etico da rispettare, nonché ai cittadini l'impegno personale di ogni singolo per il rispetto di tale indicazione.